Anche ad Agrigento la venticinquesima edizione della campagna di Legambiente, spiagge e fondali puliti, le scuole e i volontari alle dune. Le interviste di Davide Saglia. Legambiente con la venticinquesima giornata del spiagge e fondali puliti sensibilizza i giovani cittadini di domani alla pulizia delle nostre spiagge. Quanto è importante questo messaggio? Un messaggio che deve essere sempre più diffuso. Ogni anno noi ci spegniamo, soprattutto con i bambini, con i ragazzi, ma volendoli anche usare come mezzo per raggiungere gli adulti. Dare il buon esempio nel non diffondere questi rifiuti ovunque, non semplicemente circoscrivendoli alla spiaggia, perché i rifiuti che noi troviamo ovviamente hanno origini anche dall'entroterra e anche dal mare. E quindi passare questo messaggio del rispetto dell'ambiente, più che altro per il rispetto nei nostri confronti, per mantenere una salubrità che possa rendere migliore la nostra vita. Come proseguirà questa campagna? Questa campagna si svilupperà in quattro giornate. Già abbiamo fatto la prima con l'Istituto Comprensivo Agrigendo Centro, con il Plesso Lauricella, oggi con il Plesso Garibaldi, domani ripeteremo il Plesso Lauricella e infine concluderemo lunedì con l'Anna Frank. E con i bambini, non volendo, anche se la campagna appunto mira alla pulizia, con i bambini non abbiamo voluto implicarli nel raccogliere rifiuti che potrebbero in qualche maniera metterli a rischio. Ma ciò nonostante, li abbiamo invitati a fare delle osservazioni, a rendersi conto che il rifiuto principale che troviamo è la plastica, sotto tutte le maniere e le forme, e soprattutto capirne la struttura della spiaggia nel rispetto della vegetazione e soprattutto dell'elemento dunale, di cui noi qua a San Leone sappiamo che versiamo in una condizione molto critica, proprio anche nel rispetto e nella protezione dell'entroterra. Ecco, cosa avete fatto questa mattina? Abbiamo raccolto i rifiuti, Raffaella ci ha fatto fare un gioco, che era quello di, ci ha diviso in tre squadre, ci ha dato tre sacchetti l'uno e noi abbiamo raccolto dei rifiuti naturali però. Quindi quale messaggio vogliamo dare a casa? Che dobbiamo rispettare l'ambiente, gli animali che vivono a mare, negli ambienti naturali e non sporcarli. E che dobbiamo portare il rispetto pure agli altri viventi, non solo a noi stessi, perché non solo roviniamo gli ambienti, gli animali, ma roviniamo pure noi stessi. Perfetto, con un'ultima perfetta. Perfetto, con un'ultima perfetta.